Ciao a tutti amici e benvenuti in questo video. Il mio proposito è di provare a spiegarvi la critografia, almeno le sue basi, per metafore usando i personaggi Marvel. Quindi vediamo che abbiamo il nostro amico Iron Man, il cattivo Thanos, Dr. Strange, due chiavi, il guanto con le gemme dell'infinito, uno scrigno e poi un libro di magie e una pergamena. E vediamo attraverso i nostri esempi come andare a contestualizzarli. Partiamo subito. Allora, cominciamo a parlare della critografia a chiave simmetrica. In questo primo caso, Dr. Strange vuole passare il guanto con le gemme dell'infinito ad Iron Man, senza però che Thanos riesca a impossessarsene. Quindi cosa fa? Va a prendere due chiavi, che si è già scambiato con Iron Man, sono due chiavi identiche, e uno scrigno indistruttibile una volta chiuso. Quindi ci mette il guanto all'interno e chiude il lucchetto, la serratura, con la sua chiave. Naturalmente è importantissimo che Thanos non riesca a impossessarsi di una di queste due chiavi, perché se riuscisse a copiarla, riuscirebbe ad aprire lo scrigno. Ma visto che non è così, comincia a trasferire lo scrigno. Naturalmente Thanos non riesce ad aprirlo perché non è in possesso della chiave. E quindi Iron Man riesce ad aprire lo scrigno e montare il guanto sulla sua armatura. Questo qua è il principio della crittografia a chiave simmetrica, ovvero è basata su due chiavi che sono identiche tra loro. Parliamo di crittografia a chiave pubblica. In questo caso abbiamo sempre i soliti tre personaggi, è sempre nello stesso contesto, quindi abbiamo il guanto con le gemme dell'infinito, ma cambia come funziona la distribuzione delle chiavi. In questo caso Iron Man ha la chiave dorata che tiene per sé, e cosa deve fare? Va a distribuire a tutti, in questo caso quindi a Thanos e a Dr. Strange, due chiavi argentate. Quindi la chiave dorata viene usata per aprire il forziere, mentre la chiave argentata viene usata per chiuderlo in questo contesto. Quindi Dr. Strange prende il guanto, lo mette sempre all'interno dello stesso scrigno e lo chiude con la sua chiave argentata. Va a trasferire il suo scrigno. In questo caso Thanos non ci può fare niente, perché anche lui è dotato unicamente della chiave argentata, quindi non può usarla per aprire lo scrigno. Questo prosegue, e quindi Iron Man può usare la sua chiave dorata per aprirlo e recuperare il guanto come prima. Nell'ultimo esempio invece parliamo della firma digitale. La firma digitale a cosa serve? Serve sia per capire chi è il mittente di una comunicazione, ma serve anche per capire che la comunicazione non sia stata alterata, in questo caso da Thanos, intanto che appunto il messaggio passa da un soggetto all'altro. Quindi, in questo contesto abbiamo Dr. Strange, che ha un libro di magie che deve passare a Iron Man. E in un esempio simile a prima si dota di due tipi di chiavi, la chiave dorata che tiene per sé, mentre due chiavi argentate che vengono distribuite a tutti gli altri personaggi. si aggiunge anche un altro fattore, quindi è dotato di una procedura magica che permette, a partire dal libro, di costruire una pergamena. Questa pergamena ha la caratteristica di rappresentare in modo sintetico il contenuto del libro, quindi anche se il libro venisse alterato in una singola parola, in un singolo carattere, la pergamena risulterebbe diversa. E cosa fa? Mette la pergamena dentro lo scrigno e lo chiude con la sua chiave dorata. Inizia il trasferimento. In questo caso, Thanos non riuscì, anche se ha in possesso il libro di magie, e volesse mandare ad Iron Man una copia modificata, gli mancano sostanzialmente due cose. Uno non ha la stessa chiave dorata di cui è dotato il Dottor Strange, e in più, se alterasse il contenuto del libro, come abbiamo detto, produrrebbe una pergamena diversa dalla precedente. E quindi questa procedura è impossibile e non riesce a falsificare il contenuto di Dottor Strange. Quindi, una volta che Iron Man riceve sia lo scrigno, sia il libro di magia, cosa fa? Usa la sua chiave argentata, e quindi, riuscendo a sbloccare lo scrigno, capisce che il mittente è Strange. E in più, ricava la pergamena. Allo stesso modo, prende il libro, usa la stessa formula magica, e costruisce un'altra pergamena. Quando si accorge che le due pergamene sono uguali, quindi lui sa che il libro non è stato alterato durante la spedizione. E in più, si accerta, come detto prima, che il mittente è Strange. Lo scopo di questo video, naturalmente, era lasciarvi solo dei concetti. Però, sul mio repository, ho già pubblicato un notebook, che rappresenta questi concetti in chiave algoritmica, e in chiavi di codice. Quindi, nei prossimi video, andremo ad analizzare questi codici, e a vedere concretamente, come funzionano tutti gli algoritmi di criptografia, appena spiegati. Grazie mille a tutti, grazie per avermi seguito fin qui, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!